Questa è la mia idea. Quanto tempo ci vorrà? Quanto tempo? Non si può fare. E tu quanto credi che ci vorrà? Non sono mai d'accordo col signor Bizzarrini, ma stavolta ha ragione. Questo non si può fare. Tu sei d'accordo? In realtà mi piace quello che chiede. È nuovo e lo progetterò. Ma l'ingegneria è il loro reparto. Se pensano che sia impossibile non dirò il contrario. Quello che posso dire è che non posso progettare una macchina se non so le specifiche. Ed è qualcosa che deve essere deciso. È deciso. È proprio qui. Questa è la macchina che farà sì che il mondo si dimentichi di Ferrari. Ferruccio, ti prego. Una V12 Touring Car, doppio albero a cam, trasmissione a 5 velocità e lubrificazione a carter secco. Un differenziale a slittamento limitato, due bobine di accensione invece di una, sei carburatori a doppio starter. Far entrare questo in un motore da tre litri e mezzo, sinceramente è impossibile, Ferruccio. Deve essere da tre litri e mezzo, da quattro è troppo pesante. C'è bisogno di potenza, ma anche di velocità. La Lamborghini 350 GT deve essere come una macchina da corsa. Quest'uomo vuole sfidare le leggi della fisica. Ascolta, o sei un sognatore o sei un costruttore di macchine, Ferruccio. Per piacere, abbiamo tutti famiglia qui. Abbiamo tutti lasciato il nostro impiego per lavorare per te. Crediamo tutti in te, crediamo tutti nelle tue idee, ma... E se invece di un motore in ghisa lo facessimo in alluminio? Lo so che sei il nuovo gene in città, ma stiamo provando a fare un motore così da anni. L'alluminio non resiste al calore. E se tenessimo solo alcune parti in ghisa? Le valvole, i cilindri, la camera di combustione? Sarebbe una novità, ma non so se potrebbe funzionare. Possiamo provare. Potremmo arrivare alla metà del peso del motore. Sì, come minimo. E il motore lo possiamo cambiare da carter secco a carter umido. Devo costruire un telaio per ospitare un doppio albero a camme. Bene. E i carburatori? Un arco stabilizzatore posteriore. Ottimo, ottimo. E deve essere pronta per essere presentata al salone di Ginevra. C'è poco tempo? No, secondo me ce la facciamo. In 18 mesi? No, no, sei mesi. Ginevra è il 21 marzo. Ginevra di quest'anno? Certo. Vuoi andare a Ginevra tra sei mesi? Certo che sì. Ferruccio, per piacere, stai parlando come un pazzo, seriamente. Perché mi chiedi di progettare una macchina in sei mesi che non ha ancora un motore o un telaio? Tra sei mesi a Ginevra si aspetteranno tutti di scoprire la nuova Ferrari. Quello che troveranno è la prima Lamborghini. La Lamborghini 350 GT. Perché siamo qui? Forza, ditemi, perché siamo qui? Per fare un'auto. Per fare la migliore auto. L'auto più grandiosa che il mondo abbia visto. Forte come Ercole, bella come Sofia Loren. E deve essere pronta per Ginevra. Non è impossibile finché non falliamo. E se falliamo, falliamo cercando l'eccellenza.